ciao a tutti e bentornati allora ieri vi ho raccontato del tris di pacchi arrivati in quel di soriano e il nostro riassuntone di oggi parte proprio dalla coppia più chiacchierata di soriano perché perché ieri si sono prodotti in un video in una live che come direbbe chiara sono stati agghiaccianti e partiamo a riassumere quello che è stato il breve video che porta per titolo culogero deve impormi il silenzio a voi i vostri mariti no ecco e benvenuti nel medioevo allora cosa è successo è successo che la damina era intenta nelle sue faccende domestiche quando è stata avvisata che qualcuno ospite in hangout ha osato dire che le sue utenti si creano dei fake per andare in giro a creare problemi stalkerare trollare mentre per la proprietaria del canale cioè rita del canale di rita che salutiamo perché una signora dolcissima è in partenza dal terzo binario una denuncia dato che ha invitato il culogero a zittirla dice sì ma che tipo di denuncia beh ovvio diffamazione a mezzo stampa culogero che zittisce la dama ha pura utopia a cara rita anche perché lui è proprio uno dei primi che la incita a fare sempre peggio finito questo seppur breve ma merdaviglioso video si riparte con con una live altrettanto merdavigliosa il tema della live è insegnare a rispi come trasformarsi in una perfetta casalinga degli anni 50 la quale ha come unico scopo della sua vita pulire casa apprestarsi a preparare il pranzo per il marito e per i figli magari con le verdure e gli ortaggi coltivati da lei stessa nell'orto dietro casa alzarsi all'alba per impastare il pane andare al fiume per lavare il bucato e magari stenderlo pure e guai a sbagliare qualcosa perché altrimenti i calci non saranno solo per i pelosetti di casa ma anche per la moglie quindi tutto questo invece di stare su youtube a perdere tempo sicuramente di nascosto dal marito il quale comunque sarà prontamente avvisato da chi da lei la sorianese rincara la dose insinuando che il matrimonio di rispi non sia felice dice perché beh perché secondo lei spende troppo tempo su youtube anziché con la sua famiglia poi succede un qualcosa di imprevisto un utente chiede aiuto a culogero per un problema con la lavatrice ai auguri il problema di questa lavatrice che compare un un pulsante rosso con con l'icona di di un lucchetto chiuso e quindi il tecnico esamina questo problema no dopo dopo un'attenta analisi e ne conviene che il polo positivo è il polo negativo è il microonde il cruccio della dama è che rispi nelle sue live non perda occasione di parlare di lei nel frattempo che lei è presa in questi bei discorsi dove dipinge rispi come una cattiva mamma una cattiva moglie una cattiva casalinga praticamente ci sono degli utenti che che la informano di ciò che sta avvenendo nel canale di rita sì perché in contemporanea alla live della dama è in corso la live nel canale di rita dove ospite in hangout c'è rispi e quindi questi utenti le riportano quelle che sono le frasi che ritengono rilevanti della live di rita e la sorianese come suo solito rigira i discorsi li interpreta come minacce come offese e poi rivolta a quella che la sua utenza dice loro ecco perché ai tempi le avevo allontanate perché erano delle vipere no no non è andata esattamente così ai tempi la dama aveva tra i suoi utenti cuore zingaro con lui ci fu un litigio per il quale poi esattamente come sta facendo con rispi cercava di infangarlo con un botto di live una peggio dell'altra con tanto di indagini da parte del tecnico di casa che andò a rintracciare tutti i siti sui quali era iscritto cuore zingaro perché perché lo voleva far passare per per uno zozzone il comportamento dei due compari sorianesi fu a tal punto spreggevole che diversi utenti in quel momento decisero di allontanarsi dal suo canale e tra questi c'era anche il canale di vita ma anche altri che io adesso non mi ricordo tutti i nomi bene e noi cambiamo personaggio perché perché andiamo a parlare di senza anima che con il suo trasferimento a roma ci sta riservando un bel po di sorprese tipo che tipo quella d'aver conosciuto un sacrestano di nome erme nel gildo dal quale accetterebbe volentieri anche un invito a cena per poi diventare magari la sua perpetua e proprio per lui ha iniziato già a sciogliere i lunghi capelli vabbè lunghi di lunghezza media sebbene poi fisicamente lui non sia proprio il suo tipo ideale dato che è alto un metro e sessante praticamente le arriva alle bocce però se arrivasse un invito a cena sarebbe molto gradito bene vuol dire che seguiremo anche gli sviluppi di questa storia d'amore che ancora nella fase embrionale benissimo oltre al battibecco tra la dama bianca e lori lori c'è un altro dissing che si sta svolgendo non proprio in sordina parlo del botta e risposta tra cassandra ed eva le quali non risparmiano dalle loro frecciatine neanche i rispettivi mariti allora eva dice di cassandra che ha un marito che babbaro perché perché di origine egiziana mentre cassandra risponde ad eva che ha per marito l'omino della lego e che veste come un dodicenne forse riferito alla statura il dissing tra di loro ha origini lontanissime e onestamente non saprei neanche collocare un inizio e i vari perché ma c'è di fatto che ad oggi sono più agguerrite che mai gli argomenti presi in esame nel loro battibecchi sono per lo più l'aspetto fisico i lineamenti del viso la possibilità di comprare o meno dei trucchi di brand lussuosi indubbiamente tutte argomentazioni elevatissime e di spessore e cambiamo nuovamente personaggio parliamo di graziella del vescovo che salutiamo la quale deposto all'ascia del dissing si si occupa dei contenuti decisamente più tranquilli spaziando tra politica capitalismo attualità e non mancano neanche i suoi soliti post ironici dote che la contraddistingue perché che se ne dica io la graziella l'ho sempre trovata una delle donne più colte ed intelligenti di questa parte di youtube si qualche volta ha fatto un po la birecchina ma le si perdona tutto e riprendiamo il discorso rispi la quale dopo aver risposto agli attacchi ricevuti dalla dama e provato che non è nel suo mentire perché perché a differenza della controparte lei ha portato le prove ecco cos'è successo che dopo fatto tutto ciò ha ripreso il corso normale del suo canale aggiornando la sua utenza su quelli che sono gli sconti in corso e anche i vari concorsi a premio spiegandone tempistiche e modalità di partecipazione allora oggettivamente il canale di rispi per le argomentazioni che porta un po un canale di nicchia in questa parte di youtube lo sappiamo tutti che va per la maggiore il dissing e quando un canale non porta il dissing fatica a macinare visualizzazioni diverso sarebbe se uno apre una live e sta a dire allora il marito di quella è un cornuto perché la moglie va con tutti quell'altra è una prostituta quello è un deficiente lì ha voglia che le visual schizzano alle stelle però siamo onesti facciamo un discorso serio qui fare tanti visual in quel modo non è che dia soddisfazione più di tanto perché poi alla fine cosa porti porti solo violenza verbale e odio contro chiunque odio che poi in un modo o nell'altro ti torna indietro oppure perché perché stare sulle palle a tutti non è che sia poi così piacevole questo comporta anche il fatto che non appena metti il naso fuori dal tuo canale vieni inondato da una tempesta di merda ops ho detto merda poi per il resto che dire sono un po delusa perché avevo avanzato una proposta cioè quella di farmi mantenere dalla mia utenza beh le prime risposte sono state piuttosto negative perché la ester dice sì a me stai simpatica mi piacciono i tuoi video però di mantenerti anche no beh ester sei in lizza per il bannamento totale un altro utente decisamente intelligente cosa ha proposto dice ma perché non metti nella tua community o una raccolta fondi barra una raccolta vitalizio perenne cioè dove tutti i mesi l'utenza affezionata quella affezionata va a versare un tot al mese fino ad arrivare a quota 4000 euro mensili dice ma che ci devi fare con 4000 euro mensili beh vorrei allungarmi di 10 centimetri io sono metro e 70 vorrei diventare un metro e 80 per questo quindi serve fare un'operazione chirurgica vabbè ma questa non è la priorità magari sì pensiamoci su su questa cosa perché comunque un metro e 70 poi non è così male vabbè va allora 4000 euro mi sembrano troppi facciamo 3008 al mese va detto questo io adesso vi saluto vi auguro buona continuazione di giornata e vi do appuntamento a quello che sarà il mio prossimo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da gossip grazie a tutti